Hanno tentato di piazzare un'auto rubata con il telaio contraffatto ma gli è andata male e sono stati denunciati per riciclaggio. Due napoletani, un uomo e una donna di 35-36 anni, due giorni fa si sono recati in una rivendita di auto usate fanese intorno all'orario di chiusura e hanno tentato di negoziare la vendita di un SUV, una Renault Captur di fatto nuova, apparentemente intestata alla donna ma che in realtà era stata rubata a Napoli a fine settembre scorso. Il proprietario dell'autosalone però si era insospettito ed ha allertato la polizia giudiziaria della stradale di Pesaro che dopo alcuni esami tecnici ha scoperto che l'auto aveva subito numerose alterazioni, tra cui il numero di telaio, per mascherare la sua vera provenienza. Gli investigatori di specialità dopo i primi riscontri hanno così denunciato i due napoletani, l'uomo già noto alle forze dell'ordine, per riciclaggio visti anche i numerosi artifici messi in opera per mascherare la vettura. Ora da parte degli agenti della polizia stradale sono in corso ulteriori indagini che potrebbero svelare nelle prossime ore altri coinvolgimenti dei due denunciati in simili operazioni.